I carabinieri della stazione Palermo Centro hanno tratto in arresto un 53enne originario di Caltanissetta, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e detenzione di arma clandestina. Il fattore tempo ha fatto sì che gli uomini dell'arma, subito dopo aver ricevuto la denuncia dell'ex convivente dell'indagato, siano intervenuti immediatamente attivando la procedura prevista dal cosiddetto Codice Rosso. Il racconto della vittima avrebbe consentito l'acquisizione di elementi utili per la ricostruzione di svariati episodi di violenza e vessazione che il 53enne avrebbe posto in essere nei confronti della donna. I militari, pertanto, raggiunta l'abitazione dell'uomo per la notifica del decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare rinvenendo una pistola con matricola a brasa e due caricatori con relativo munizionamento. Il 53enne, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso Pagliarelli. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto.